ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video di meteo e oggi ragazzi vi vorrei parlare degli aggiornamenti meteo allora ragazzi noi a nord avremo tempo variabile e soleggiato invece al centro potremmo avere piogge leggere e variabile e a sud avremo grosse piogge mentre in a palermo e sicilia i tempi saranno con pioggia leggera e variabili per questo aggiornamento vi ricordo di scrivervi vi e ragazzi ragazzi ci vediamo con un prossimo aggiornamento meteo ciao ragazzi grazie 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 a tutti